mamma mia no non ci credo sei così stupido mamma mia mamma mia mamma mia oh quanti sono allora buonasera piebomber hai cambiato i dd non eri recon prima hai cambiato i dd vabbè allora io pensavo di aver finito con te però a quanto pare no quindi vuole riscambiare per caso cosa vuole fare c'è un non mostro mai nessuno ma sei uno spacciatore che cazzo sei che c'è che ha fatto non vuole scambiare a due addirittura non sto capendo dici di tu non sto capendo nulla a due e vieni qua entra non è che riesce a darti un po' il volume del microfono sì va bene va bene mi dico i permessi mi dico i permessi le do i permessi le do i permessi ok lo sai che potrei aprire il muro da un momento all'altro e prendere tutte le armi no così qua moltiplicati per 200 lei vuole scambiare a due tutte queste armi no andiamo nella base enorme no la base che le molto piace va va posso allora mamma mia lei però mamma mia posso posso ovviamente dove lei ha preso tutte queste armi beh non lo posso dire aaaaaaaaaaaaaaah non lo posso dire ehi allora dai quindi sicuro non mi vuoi dire dove le ha prese no no però fra una cosa visto che lei vuole scambiare no eh logico vedi tu tutte queste armi quanto valgono 2000 air armi quanto so dimmi non ti fai non ti fai come non ti fai eh che dobbiamo fare cosa che stai creando niente spero che ok eh allora eh cioè troppo prima tu troppo prima io vabbè ma io che ti do da per tutte quelle armi eh un po' di do hai 140 ehm 140 armi eh penso di sì non ne so sicuro ma io troppo io troppo per carità però aspetta le levo i permessi perché lei è un po' birichino allora ma troppo troppo eh sì troppo tutto quello che tengo per cercare di apparare un po' la situazione con tutte le armi che c'hai tu eh ovviamente ok è in culo però tu stai droppando ma perché hai spaccato il muro là che cosa volevi fare eh ce l'ho sbagliato che spaccato che hai combinato eh no madre troppi eh non ci vedo sono tutte tanto che tanto che giallo non ci non ci vedo mamma mia mamma mia non ci vedo no 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 aspetta non mi fai non mi fai ma che c'è ah così si scava i permessi voi aspetta vieni qua davanti vieni qua davanti dove i permessi i permessi allora ok ok ma ok 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 mamma mia no 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 mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia non ci vedo non ci vedo mamma mia non ci vedo sei così stupido mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia che ho fatto ma quante sono quante sono quante sono Stavo relaggando Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non mi entrano manco le mie armi Non mi entrano Mamma mia che ho fatto Che ho fatto Io so troppo forte a questo gioco Mamma mia Mamma mia Ci vedo fra ci vedo Ci vedo stai tranquillo ci vedo Mamma mia Mamma mia Mamma mia fra Ho distrutto ho disintegrato Non ho capito nulla Mamma mia Sto tremando Mamma mia guarda qui Guarda qui fra Mamma mia Hai qualcosa da dire Boom Non ti do nulla Rega non ti do nulla Non ti do nulla Basta Guarda che bella Fra t'ho distrutto C'era questa qua C'era questa Ti provo fra c'ho l'inventario pieno C'ho l'inventario pieno Pieno delle tue armi Mamma mia Non ci sto prendendo Sto tremando Sto tremando Sto tremando fra Sto trovando Mamma mia Che stupito Non ho ancora notato All'entrata qui Mi banni Mi banni Va bene Bannami Bannami Cornuto Cornuto E così Così impari Adesso voglio te Vai torna Tornaci di nuovo Dammi a scambiare Tornaci di nuovo Dammi a scambiare Tornaci E' la terza volta Che viene T'ho distrutto T'ho distrutto Fra t'ho distrutto T'ho distrutto Mamma mia Sto tremando Sto tremando Mamma mia Che truffa Mamma mia Mamma mia Quante sono Non uno Tu potrei Andami scocciò Per di contare Sò troppe Sò troppe Contermi Sò cento Sò cento Sò cento Sò cento Sò cento Cento Tanta Impossibile Cento Tanto Però va bene Fra 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 Che devo dire Mi hai fatto diventare Ricco Mi hai fatto diventare Ricco Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sono Sceglie Adesso Mamma mia Tutti che truffano Tutti che truffano Sì Fra tutti che truffano Bene Intanto Io avevo presi truffani Io avevo presi truffani Cosa? Io avevo presi truffani Basta Mamma mia Le avevi presi? Eh Lavorando Lavorando Che 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 fa un lavoro Così fallimentare Che ti pagano Con delle armi Sì Mamma mia Sono felice per te Fra ma Questo era il tuo stipendio Di un mese Due mesi Tre mesi Quanto era? Eh Un mese Un mese Un mese Un mese Un mese Fra un altro mese Tre riprendi Un anno Un anno Un anno? Un anno passa in fretta Se ci pensi Guarda questo 2020 Sembra ieri Che era Dicembre Che è arrivato il covid Invece Guarda qua Volato no? Vabbè Ehm Qualcosa da dire Beh Tu guitti mamma mia Mamma mia Sto tre fai Mamma mia Non ci credo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che c'è Che c'è Che vuoi Stai laggando Stai laggando Che c'è Che c'è Oh Recon Oh Ma stai piangendo Ma stai buono Mamma Basta Basta cosa Che c'è Che c'è Mamma mia Beh piangi Piangi Perché se tu te le ridò Fra però Basta Non mi troffare più Olè Non mi viene più A contattarmi sui stram Tieni Oh prendi le armi Prendi le armi Va bene Sì 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 BOOM Minha il con Dai Eh con Anzi no Non ci sentiamo più Ti prego Non contattarmi più Perché T'ho distrutto Questo c'è veramente Fatto la peggior figura di merda Potevi fare Perché ovviamente Sto registrando Lo sai no Come si chiama Come come si chiama Come come si chiama Ho fatto altri 4 video con te Eh non lo so come si chiama Si chiama Tinky Winky si chiama Tinky Winky Su YouTube Ok a posto A posto Ciao ciao Recon Dai va Dai quitta Perché veramente Manco lo sfizio di cacciarti Più tengo Manco più lo sfizio di cacciarti Quitta dai Ciao Recon Un bacione Mua Mi dammi